Benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube, questa è una puntata flash di storia di ordinaria pedagogia. Dovuta a cosa? Dovuta a una notizia che ieri, 14 settembre 2021, c'è caduta tra capo e collo, una sorta di deflagrazione nucleare che assolutamente non ci aspettavamo, non si aspettava il mondo della scuola, non si aspettava il mondo pedagogico. Io sono Pierpaolo Cavagna, questo è il mio canale YouTube, se volete iscrivetevi, lasciatemi un commento sotto perché questa notizia avrà sicuramente un riverbero che andrà avanti per settimane, probabilmente mesi, condividete il video, attivate la campanellina. Qual è questa notizia così devastante? La notizia è una sentenza del TAR, il Tribunale Amministrativo del Lazio, che quindi ha pertinenza su tutto il territorio nazionale, nelle controversie che interessano le amministrazioni pubbliche con i cittadini. Che dice questa sentenza? La sentenza è la 97-95. Dice sostanzialmente che il decreto 185 del 2020 è da prendere e buttare nel cestino. Cos'è il decreto 185 del 2020? Il nuovo modello di PEI. Non solo il nuovo modello di PEI come documento, ma proprio la struttura di tutto, la nuova formula di integrazione degli alunni portatori di disabilità all'interno del contesto scolastico. Quindi vediamo che cosa comporta questo decreto e quali potrebbero essere le conseguenze nell'immediato e anche a lunga gittata. Per prima cosa, chi ha avanzato questo ricorso? Perché questo è molto importante. Troviamo diverse sigle di settore, quindi non solo una sigla. Tra cui le capofila sono l'associazione Core Down, l'associazione Famiglie Down e il CIS. Cos'è il CIS? Il Comitato Italiano Insegnanti di Sostegno, che già da subito aveva avanzato dei dubbi, delle remore rispetto a questa proposta di legge che poi è passata tramite un decreto interministeriale. Il vulnus centrale del ricorso è di natura squisitamente legale. Di che tipo? Allora, il primo decreto che noi abbiamo avuto dal Ministero dell'Istruzione riguardo a questa nuova revisione, a questo nuovo modello di PEI, quindi nuova procedura anche di assegnazione degli insegnanti di sostegno, nuova visione in ottica ICF, CY, risale al 2017, il decreto legislativo 66. Cosa diceva questo decreto? Che prima di arrivare all'adozione del nuovo modello di PEI ci sarebbero dovuti essere degli step intermedi. Quindi, ad esempio, la nuova definizione del profilo di funzionamento. Ecco, cosa è successo? È successo che andando avanti dal 2017, arrivando al 2019, quindi decreto 99, nuovi aggiornamenti, e fino al 185, il 2020, si è passati direttamente all'applicazione del nuovo modello di PEI e quindi del nuovo impianto sull'inclusione, senza passare per questi step precedenti. Risultato? Il risultato qual è? Prima di tutto che, soprattutto secondo il CIS, quindi gli insegnanti di sostegno, non c'è stato un periodo di adeguamento, di adattamento. Il profilo di funzionamento non è stato fornito, quindi le scuole si sono trovate, l'anno scorso e quest'anno soprattutto, a dover iniziare a progettare dei PEI senza avere la documentazione a monte. Quindi, giustamente, gli insegnanti di sostegno dicono ma se non abbiamo un profilo di funzionamento fatto su base PEI, che deriva dal lavoro congiunto con l'unità di valutazione multidisciplinare delle ASL, che non ha avuto nessun modello per produrre questa documentazione finora, come facciamo noi a fare un PEI su base ICF? Punto numero due. Questo PEI su base ICF dovrebbe rientrare, come da decreto interministeriale, all'interno del cosiddetto PDV, progetto di vita, che deve superare il limite scolastico, della barriera scolastica, quindi della giurisdizione scolastica, e calarsi all'interno della vita sociale dell'alunno, che significa, in pratica, un interessamento anche delle amministrazioni comunali per quanto concerne il comparto dell'assistenza sociale, gli assistenti sociali, che non hanno avuto nessuna indicazione in merito e che non hanno un'idea pratica di come debba essere fatto questo progetto di vita. Punto numero tre, cosa che preme tantissimo l'associazione di categoria di familiari delle persone con una disabilità, degli alunni con disabilità, l'ipotesi di poter sollevare totalmente gli alunni da alcune materie, cioè l'applicazione pedissequa del decreto interministeriale 185 del 2020 potrebbe prevedere che per alcuni alunni si possano totalmente eliminare alcune materie. L'ottica del legislatore qual era? Venire incontro alla possibilità di realmente includere, integrare questi alunni facendo sì che invece di tartassarli con alcune materie queste potessero essere integrate o modificate ad esempio con attività di apprendimento cooperativo, attività di gestione tra scuola e lavoro, quindi un reale impiego anche al di fuori delle aule scolastiche, tutta una serie di attività che quindi non puntasse esclusivamente sul lato cognitivo, ma mirassero più realmente alla qualità di vita degli alunni. Piccolo problema sollevato dalle famiglie è che è anche dall'insegnante di sostegno che ha sin da subito determinato un po' di musi storti, un po' di sopracciglia abbassate, ma non è che così facendo reintroduciamo dalla finestra le classi differenziali che erano state buttate fuori dalla porta con i tanti decreti e la tanta storia legata all'inclusione scolastica, perché il rischio è questo. Quindi che io prendo un alunno, arrivo al punto tale per cui proporgli di seguire una progettazione per obiettivi minimi o differenziati non sia fattibile, quindi che faccio? Lo espello dal contesto scolastico, gli faccio fare altro, di fatto lo ghettizzo. Quindi queste sono le motivazioni di fondo del ricorso. Un altro elemento ancora che ha sollevato l'attenzione dell'associazione di categoria del CIS e sul quale poi il TAR ha espresso un parere favorevole alla parte ricorrente, quindi a chi ha impugnato il decreto interministeriale 185 del 2020 è la nuova costituzione dei GLO. In tutti i documenti, tutti i decreti precedenti, quindi il 66 del 17, il 99 e il 19, la composizione del GLO aveva una struttura. Nel decreto interministeriale 185 del 2020 c'è uno stravolgimento delle figure professionali inserite all'interno del GLO. Quindi questo è stato un altro dei punti, uno dei quattro punti presi in esame dal TAR e sul quale il TAR poi ha emanato questa sentenza di annullamento del decreto interministeriale. Ora, cosa succederà? E cosa succederà nell'immediato? Perché siamo oggi, che sto registrando questo video, al 15 di settembre. Secondo il decreto del 2017, entro il 31 di ottobre, avremmo dovuto presentare i pay. Avremmo dovuto, vi parlo da professionista esterno, che sta formando in questi giorni centinaia di docenti sul nuovo modello pay su base ICF. Quindi quello che le scuole si troveranno davanti è un vuoto legislativo. Il TAR ha bocciato il nuovo modello, sicuramente il Ministero dell'Istruzione farà ricorso su questo, quindi prenderà del tempo, però nell'immediato cosa succederà? Succederà che le scuole non sapranno più che modello adottare. Le scuole e i professionisti, quindi inclusi gli educatori professionali socio-pedagogici o sanitari che operano in ambito scolastico e i pedagogisti. E tutte le altre figure che orbitano intorno, quindi le neuropsichiatri infantile, i centri di salute mentale con gli psichiatri, eventualmente anche le amministrazioni comunali, i servizi sociali che avrebbero dovuto copartecipare in maniera attiva al progetto di vita. Siamo senza indicazioni. Che si fa a questo punto? A questo punto molto probabilmente si continuerà a utilizzare il modello di pay precedente, a meno che alcune scuole, sulla base dell'autonomia, non decidano di adottare i nuovi modelli di pay proposti dal Ministero. Quindi un'enorme confusione. Ma non sarà solo questa la conseguenza di questa deflagrazione nucleare cascata sul mondo della scuola. Ci sarà il problema delle assunzioni degli insegnanti di sostegno. Queste assunzioni, con la nuova legislazione, le nuove indicazioni misteriali, è basata sulla identificazione dei bisogni che sono sempre inclusi all'interno del pay. Quindi all'interno di quella documentazione si indica anche quante ore di supporto necessita l'alunno e quindi di conseguenza anche il numero e le ore a disposizione del personale specializzato in sostegno. Altra conseguenza ancora sarà la costituzione delle unità di valutazioni multidisciplinari. Qualche mese fa i pedagogisti cantavano vittoria per essere stati inseriti dalla finestra all'interno delle valutazioni multidisciplinari. Ci sono associazioni di categoria che hanno sbandirato per mesi Ah, gli educatori e i pedagogisti i pedagogisti faranno parte delle unità di valutazione multidisciplinari ASL. Ad esempio la pay, senza fare troppi giri di parole, sembrava che dovesse rassumere un pedagogista in ogni UVM. Piccolo problema, con questo decreto, con questa sentenza del TAR che annulla decreto interministeriale, anche le UVM a questo punto sono quantomeno congelate in attesa di ulteriori indicazioni di giudizi. Va da sé che nessun pedagogista mai, a oggi, è stato chiamato all'interno delle unità di valutazione multidisciplinare. Va da sé che nelle neuropsichiatrie infantili non è ancora stata definita nessun organico preciso né linee guida per queste unità di valutazione multidisciplinare. Quindi succederà anche questo. In questo momento siamo assolutamente privi di notizie. Probabilmente, nelle prossime ore, anzi sicuramente, il Ministero dell'Istruzione darà indicazioni a riguardo. Me lo auguro, ce lo auguriamo, perché in alternativa potremmo far passare dei giorni o delle settimane e il problema andrebbe notevolmente a ingigantirsi. Tutto questo considerando che siamo in avvio di anno scolastico, sotto organico come al solito, con le assegnazioni degli insegnanti di sostegno che sono in ritardo nettissimo come tradizione della scuola italiana, all'uscita da una pandemia mostruosa, quella del Covid, non sappiamo ancora se saremmo in presenza, in didattica a distanza, in didattica integrata a distanza, non sappiamo nulla. E in più ci becchiamo questa sorta di tramvata qua in pieno collo. Ora, ultimi due appunti. Questa sentenza del TAR cancella totalmente la qualità e la bontà della progettazione su base ICF e ICF-CY e parallelamente l'obbligo di aggiornamento professionale e quindi tutti i corsi che si stanno tenendo in questo periodo per formare il personale scolastico sulla progettazione su base ICF, che fine faranno? Allora, rispondo alla prima domanda. Tutto il mondo scientifico, accademico, professionale, si muove verso l'utilizzo della classificazione internazionale del funzionamento ICF dell'OMS. perché? Perché è un'ottica fortemente inclusiva, perché è un'ottica fortemente integrativa, perché non lavora più sulle criticità, sull'handicap, sulla disabilità, ma sul funzionamento umano. Quindi, da un punto di vista paradigmatico della teoria di fondo, l'ICF non solo è confermato da decenni di studi, ma al momento è la struttura paradigmatica che assorbe e assolve in maniera più precisa possibile quel modello di intervento biopsicosociale tipico delle scienze umane e non solo degli ultimi trent'anni. Quindi, assolutamente continueremo a utilizzarlo. Il Ministero dovrà trovare un modo legale per farcelo utilizzare nella maniera più efficace, efficiente e meno confusionaria possibile. E i corsi di formazione? Questo ve lo dico da formatore perché a me questa notizia è arrivata ieri mentre stavo ottenendo una simulazione sul primo qualificatore, no, sulla codifica, neanche il primo qualificatore, sulla codifica descrittiva ICF per un plesso didattico del Sassarese, quindi del Nord Sardegna. Una docente mi ha detto Pierpaolo, ti posso mandare una cosa perché è paradossale sta girando nei gruppi di docenti, ti ho detto mandamela volontieri, era la sentenza del TAR, quindi l'obbligo di formazione rimane, ovviamente impatterà sulla qualità dei corsi perché io domani che riprenderò a tenere i corsi per docenti dovrò rispondere alla prima domanda fondamentale, ma perché stiamo facendo questo corso, ma cosa succederà adesso? Quindi ovvio che avrà delle ripercussioni, però in ogni caso i corsi andranno avanti, quindi ai docenti curricolari, ai docenti specializzati in sostegno, ai colleghi formatori dico procediamo. Attendiamo che il ministero al solito trovi il modo di sgarbugliare questa matassa terribile, di sciogliere questi nodi gordiani, è un problema qua prettamente di tipo legale, rimane il forte dubbio della nuova reintroduzione subdola delle classi differenziali, questo sì è un nodo teorico che andrà affrontato, quindi questo è l'aggiornamento su questa notizia così spaventosa da certi punti di vista che ci siamo trovati ieri in mano ovviamente seguiremo tutti, seguiremo anch'io gli aggiornamenti di questa vicenda grazie mille per essere rimasti con me fino ad ora e ci vediamo con i prossimi video tra l'altro penso che il prossimo video ancora sarà dedicato a un nuovo aggiornamento ancora professionale per quanto riguarda pedagogisti ed educatori professionali sociopedagogici di cosa sto parlando della proposta di costituzione dell'albo professionale un'altra bomba galattica ci vediamo a quel video